Allora, Mio Saccardi un'altra doppietta, più ampia rispetto alla settimana scorsa. Non possiamo dire che quello che abbiamo visto stasera è il baseball che conosciamo, però la squadra sicuramente ha dato il meglio di sé, una messa di valide notevole, insomma, ha fatto quello che doveva fare. Sì, stiamo giocando abbastanza bene, stiamo cominciando a andare a ritmo anche in battute, i lanciatori stanno tirando bene fin dal precampionato. Abbiamo delle partenze sempre un po' tutubanti e questo non mi piace, anche perché non entriamo in campo e non giochiamo come dovremmo. A cosa è dovuto secondo te? Forse sottovalutano inconsciamente? No, io credo che sia un problema di concentrazione, di abituarsi, non imparare perché siano capaci di abituarsi ad entrare in campo e dal primo lancio giocare duro. Abbiamo visto che hai scelto diverse soluzioni a livello difensivo dovute anche in parte agli acciacchi. Come giudichi gli esperimenti delle due settimane? Sono esperimenti che chiaramente facciamo, esperimenti no, sono ricerca di soluzioni che facciamo in questo inizio di campionato. Sappiamo che William Wong potrebbe partire da un momento all'altro, per cui non sappiamo bene per quanto tempo sarà qui con noi. Noelle fuori per un infortunio, quindi in questo momento stiamo cercando di trovare la combinazione migliore. Proprio degli infortunati, come sono i tempi di recupero? Anche Samba è stato fuori anche oggi, battioni ancora? Tra gli infortunati metterei Sebastiano Poma che ce ne avrà ancora per un paio di settimane e la stessa cosa vale per noi e Gonzales. Per quanto riguarda Samba soffre di una pallinata che ha preso la settimana scorsa, giorno per giorno si è sempre meglio, oggi non valeva la pena rischiavoli. E Tommy? Tommy ha un dolore ad un polso che non è niente di grave, soffre un po', devi stringere un po' i denti mentre gioca, però dovrebbe essere una cosa che poi passerà anche lì nel giro di un 15-20 giorni. Ascolta, ha detto in settimana la società ha annunciato un ingaggio importante, quello di Alex Ziddi che raggiungerà la squadra, speriamo, per i play-off. Non aggiungo altro, non vedo l'ora che arrivi per lui, spero più tardi possibile perché vuol dire che sta andando bene. Quando arriva sono contento. Poi saranno tutti i problemi tuoi, trovare l'incastro giusto? Beh, insomma, credo che Liddi si riesca ad incastrare. Certo, certo.